Devi insegnarmi a fare le cose da Spider-Man, sennò come faccio ad aiutarti. Che sto facendo? Che sto facendo? Che sto facendo? Buon momento per diventare invisibile. Sì. Non ti avvicinare o li ammazziamo. Ok, non diventare invisibile. Scegliti un bagel. Perché ho tanta paura? È il mio giorno libero, testa di cazzo della paura! Mi sto muovendo a rallentatore o è un'impressione? Scusami ragazzino, non sono bravo con le maniglie. Sono Miles. Oh va bene, entra pure. Ragazzino, cosa ci fai qui? Kingpin ha un super acceleratore e vuole uccidermi. Ascolta, la verità è che lavoriamo insieme. Cosa? Tutta la storia della lotta tra buoni e cattivi è solo una cazzata per vendere più zainetti e gadget. Tutto bene, ragazzo? Atacco a sorpresa! Ma chi cazzo è lui? Un tipo forte e silenzioso. Ovunque io vada, il vento mi segue e il vento ha l'odore della pioggia. Oswald Danica, spacciatore di droga per quello sfigato di patriota. Beh, io non ti dico un cazzo. Ti scatenerà un mucchio di scagnozzi. Parlo di gente dura, picchiatori veri. Ti fotteranno a velocità di curvatura nuova. Ecco cosa, starai col culo per terra. Ce la farai a combatterli tutti. Credo di non avere scelta, giusto? Fai in modo di aggiungere questo a... Che cos'è? Lo ha inventato un pazzo bastardo francese che conosco. Muori, vecchio stronzo! No, 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 ti prego! Vediamo se un bastardo sa volare. Beh, io credo di no. A che mi serviresti spalmato in strada come marmellata di fragole? Restiamo in contatto. Amico, che ho fatto per meritarmi questo? Attacco a sorpresa!